Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Cesena Spal, recupero della seconda giornata in programma domani sera alle 20.45. Partiamo subito con le domande, vi chiedo sempre di presentarvi e aspettare il microfono. Daniele Zandoli Carlino, buongiorno mister. Allora, credo che una situazione migliore alla visita di due derby tu non potessi augurarti, due clean seat o portieri imbattuto consecutivi, l'attacco segna mitraglia, tre vittorie consecutive, meglio di così, non potevi pretendere. Sì, siamo in un buon momento, dobbiamo continuare, dobbiamo rimanere sul pezzo e continuare ad essere concentrati su quello che bisogna fare domani sera, perché vogliamo continuare questa strada. Io credo che si sia intrapresa la strada giusta, però devi continuare a lavorarci. I ragazzi stanno imparando a costruirsi le prestazioni e i risultati, non aspettando che le cose vadano bene, la cosa più importante. Anche domani sera dobbiamo continuare ad avere un livello alto e alzarlo, perché questa squadra secondo me ha ancora margini di miglioramento, come ho detto con la partita di fermo, e deve lavorare affinché possa alzare ancora le prestazioni, il proprio livello, soprattutto mentale, che in queste partite ravvicinate serve. Buongiorno mister, donati di tutto Cesena. Domani arriva la SPAL che è una delle pretendenti alla vittoria insieme a Cesena e tante altre squadre quest'anno. Che partita ti aspetti e qual è il rischio da evitare, il maggiore rischio da evitare per Cesena? No, ma rischio no, bisogna rimanere concentrati sul lavoro, su quello che, cosa bisogna fare domani. Non c'è solo la SPAL, io credo che sia un campionato dove il livello rispetto alla passata stagione si è alzato di parecchio. Ci sono sei, sette, otto squadre che hanno costruito degli organici importanti. Partono tutti per fare un campionato di vertice. Poi è normale che il campo che deve stabilire o che stabilirà chi saranno le squadre che potranno ambire alla posizione di vertice. Oggi è prematuro parlare di squadra forte, squadra meno forte. Non dobbiamo concentrarsi partita dopo partita a continuare a fare prestazioni, a dare continuità ai risultati e lavorare per alzare il nostro livello che, secondo me, come ripeto, ancora possiamo alzarlo. Luca, le uniti della Romagna, ecco, Ministro, volevo chiedere degli assenti di fermo. Mi riferisco soprattutto a Saber e Carbò. Possono essere recuperati per la sfida di domani e, a prescindere, se è intenzionato a riconfermare la formazione di fermo? Tanto ieri sia Saber che Carbò hanno fatto allenamento con la squadra. È la cosa più importante. abbiamo la rifinitura di oggi pomeriggio e il risveglio domani mattina per fare le valutazioni finali e poi mandare, come sempre, la migliore formazione domani sera in campo per affrontare la spalla. Ecco, auspicando ovviamente che possono essere a disposizione tutti i giocatori più possibili, ti mettono un po' in difficoltà, diciamo, le ultime partite? Perché chi è entrato ha fatto molto bene, quindi... Io paradossalmente sono più sereno quando vedo tutti pronti per dare il proprio contributo, perché poi alla fine le scelte che fai non le sbagli, perché se tutti danno il loro contributo sei più sereno e tranquillo. Quando invece sia la squadra, sia qualcuno ti dà dei pensieri che non sia ancora al top per dare il suo contributo, sei meno sereno. In questo momento sono più sereno perché so che chi parte dall'inizio, chi entra, farà bene. Qualsiasi scelta fai, sai che il livello cambia poco, a prescindere dalle caratteristiche che possono cambiare tra un calciatore e l'altro. Mollo Cesena Today, prima della fermata avrei detto che avresti dato appunto chance a chi mordeva il freno. Mi pare che Berti abbia risposto, ti aspettavi una crescita così del giocatore che sta avendo e se spendi come livello di gol può essere anche meglio del gemello, sembra più... una cosa sembra addirittura migliore. A prescindere dai singoli. Quando decido di far giocare un calciatore vuol dire che se lo sta meritando, può dare il suo contributo a quella partita e così stanno facendo. Io credo che tutta la squadra abbia fatto una buona gara. Poi spiccono i singoli perché la squadra ha lavorato bene, perché si è lavorato di squadra. Credo che anche Francesconi abbia fatto una buona gara. Pierozzi che dalla prima di titolare ha fatto una buona prestazione. Ma a me mi interessa che tutta la squadra faccia bene. Poi è normale che l'esaltazione del singolo viene dal lavoro di squadra. Gli attaccanti sono quelli che magari ne prendono più benefici. Come i difensori se lavorano bene gli attaccanti prendono i loro benefici, non subendo gol, non prendendo pericoli dagli avversari. Questa è la cosa più importante. Mister, è da un po' di tempo che dici che questa squadra ha tanti margini di miglioramento e deve ancora aumentare il livello. Ti chiedo, dopo 2-4-0, ma anche dal punto di vista tattico, visto che è cambiato qualcosa dall'anno scorso in tutti i reparti, anche lì ci sono tanti margini di miglioramento oppure solo dal punto di vista mentale? Non dico, è normale il 4-0, non parlo specificamente del risultato. Parlo della prestazione sia individuale che di squadra può crescere. Poi è normale che puoi alzare anche il livello e puoi vincere 1-0. Non è quello il risultato che mi interessa. Ma a livello individuale, di squadra, secondo me, è di prestazione. Soprattutto ci sono tanti ragazzi che alla prima esperienza, al primo impatto in un campionato, in una squadra che vuole fare un campionato importante, le partite ti fanno crescere. Riesci a capire dove puoi arrivare, dove puoi migliorare, dove devi lavorare per migliorarti. Questa è la cosa. Partito dopo partita, voglio che questa squadra cresca. Giovanni Guiducci, Corriere Romagna. A Fermo abbiamo visto questa novità dal punto di vista della disposizione tattica con Corazza dietro da lui due trequartisti. Può essere una soluzione dettata dall'impiego di un giocatore con le caratteristiche come Berti? Perché magari con un saber si ritorna un po' all'antico con due punte e il trequartista dietro? Ma guarda, l'abbiamo fatto anche a Ponte Terra con il saber, non da trequartista, ma spostato sulla sinistra come ha fatto Berti. Abbiamo cambiato un pochettino la nostra disposizione per caratteristiche, per valorizzare di più le caratteristiche dei nostri calciatori. Si sta facendo abbastanza bene. Bisogna riconoscere meglio ancora gli spazi, cambiando così la disposizione soprattutto nel reparto avanzato, però la squadra sta lavorando bene. Non è facile quando non lavori tanto durante la settimana, recepire certe indicazioni e riproporle in campo. Questo è un sinonimo che la squadra, anche se c'è poco tempo tra partita e partita, nei momenti in cui scende in campo durante l'allenamento è attiva e reattiva sulle disposizioni che deve attuare in campo e sulle indicazioni. Ecco, mister, si trova di fronte a una squadra che prima del nubifraggio di Ferrara stava perdendo contro all'Ucchiesi in casa, c'è un clima teso, contestazione al Presidente, teme questa tensione in casa all'avversario? No, no, dobbiamo continuare a lavorare, a prescindere dall'avversario. Dobbiamo andare avanti sulle nostre certezze, consapevoli su quello che... Pensate solo a quello che si deve fare domani sera. È normale che hai studiato l'avversario, sai, le potenzialità di questa squadra, come quelle della Fermano, del Pontedera, e devi andare e concentrarti sulla prestazione. Dare continuità di prestazione e dei risultati è la cosa più importante. Ecco, appunto, si parla di certezze, di miglioramento. Volevo chiederti, l'inizio del campionato era stato, forse un po', non dico falsato, condizionato dal fatto che i nuovi acquisti sono arrivati un po' in ritardo. I progressi delle ultime due giornate ti stupiscono? Sono più veloci del previsto? No, è normale, è una crescita. Noi dobbiamo guardare il nostro percorso. L'avevo detto che questa squadra, il nostro gruppo definitivo, era da poco tempo che lavorava insieme. C'era bisogno di conoscerci, conoscersi e trovare quell'alchimia giusta, quel feeling giusto tra reparti, tra di loro in campo e fuori dal campo. Non smetto di ripeterlo, questi ragazzi ci stanno lavorando sotto questo aspetto in modo straordinario e oggi si vedono i progressi e i miglioramenti. Ma non bisogna fermarsi perché bisogna rimanere concentrati e sul pezzo perché il campionato richiede questo in questo momento. Domenica c'è il derby che è un po'... Un'altra domanda? Un'altra domanda? Spalla. Quindi non c'è il rischio veramente del giocatore. Spalla, spalla. Solo la spalla, solo la spalla. Ma domani c'è la spalla. Puoi pensare alla decima giornata, alla quindicesima o come finirà il campionato. Domani c'è la spalla. Paradossale, sei sereno perché paradossalmente sei sereno perché tutti quanti ti mettono in difficoltà perché dovrebbero giocare tutti in sostanza, no? E questo credo che per un allenatore sia il top, no? No, sei sereno quando vedi la squadra... Non è paradossale. No, è una cosa bella, piacevole quando devi fare delle scelte e pensi gioca uno o l'altro tanto cambia poco, la prestazione la farà noi e quindi sei sereno. Quando invece c'hai da scegliere e non sei sicuro che la prestazione possa arrivare un po' di pensieri te ne metti in più. La dimostrazione l'hai avuta proprio fermo, no? Perché ci hai sorpreso nel primo tempo schierando, insomma, cambiando un po' la formazione, schierando dei giovani che probabilmente non ci aspettavamo di vedere in campo, o non tutti almeno. Ecco, dubbi sulla formazione di domani sera? Continuerai sulla linea verde oppure farai qualcosa di diverso? Perché adesso ci saranno anche Saber e Carbò, quindi cambierai qualcosa. È ancora prematuro, perché abbiamo fatto insieme l'allenamento di ieri, il primo allenamento di Saber e di Carbò, qualcuno ancora doveva... Comunque sono al posto loro due, possono giocare fin dall'inizio. Ieri hanno fatto l'allenamento con... poi speriamo che non succeda niente oggi. No, no, certo. Sostanzialmente gli manca solo a Gonsei allora. Sì, quindi devi fare le valutazioni tra oggi nella rifinitura e domani mattina e mandare la migliore formazione per domani sera. Quindi il mister, anche Piacentini sta bene? Sì, anche Piacentini è rientrato in gruppo. Grazie. Grazie.